Quello che è successo è che nonostante il fatto che gli studenti avessero annunciato che avrebbero lasciato l'edificio volontariamente, domenica sera o lunedì mattina, alla conclusione di questo festival delle scienze e delle arti, il CRB ha deciso di guardare la polizia. Non erano obbligati dal giudice, il giudice ha detto che si poteva fare. A quanto pare il sindaco Fandelan non è in città, in vacanza in Francia, quindi c'è il sindaco locale che ha ceduto alla pressione del CBB, del management dell'università, di mandare la polizia e fortunatamente non c'è stata violenza perché tutti hanno lasciato l'edificio volontariamente, però nove persone sono state arrestate a quanto ho capito. Noi abbiamo continuato il festival qui sulla piazza, il festival è andato avanti per un paio d'ore, abbiamo avuto due lezioni di quelle che erano programmate, e Valdenglen e altri. Adesso vedete voi la situazione, adesso la polizia è nell'edificio, non c'è nessun altro, ma questo è qua. Ciò nonostante siamo ancora disposti a continuare il processo politico con i due comitati specifici e indipendenti che stiamo mettendo in piedi, perché queste due commissioni sono indipendenti uguali persone che ess chiedono della scena con i due comitati a continuare il together dei